allora ok praticamente ci abbiamo faceless 7 con book of destiny non puoi perdere la partita il tuo avversario non può vincere la partita e poi ci abbiamo angel of destiny che dice che è in understep se lui ha attaccato il player perde se lui fa danno quindi mo vediamo quello che succede quando praticamente verrò attaccato dall'angelo of destiny ok io continuo a passare allora lo faccio deccare 131 carte cioè veramente vogliamo continuare così hai capito non funziona perché io non posso perdere è fantastico sta cosa è fantastico sta cosa ok 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 va bene ora lui mi ha infitto danno ok 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 quanti grigger ok dai dai ok and step ok 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 Het nu se vai in giù blood on death nooo hello Cioè, praticamente io devo farlo con cedo Bye bye Ok 153 a 19 Non trovo gli esili Solo questa no Il resto che erano pedine Ah, il resto è distrutto Bella madonna Ma la conosce la combo? Un'altra faceless Allora, aspetta Allora 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 Ok Ok Allora 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 Lo dico subito Proprio Guarda No, no Non tragaglia Tranquillo Ti recilio questo Non ti preoccupare Che bello Abbiamo anche il blocchino Ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.